Buonasera a tutti, chiusura di seduta e indeciso rialzo per l'azionario europeo. A sostenere i mercati le attese per un accordo al congresso americano su un nuovo piano di stimoli, di aiuti e le parole di Donald Trump che ha promesso un taglio alle tasse sul capital gain e una riduzione delle tasse per i percettori di redditi ben medi. Buone notizie anche per quanto riguarda sul fronte virus, secondo il tracker del New York Times i nuovi casi negli Stati Uniti sono diminuiti del 18% negli ultimi giorni e le nuove morti del 6%. Questa situazione quindi ha spinto al rialzo le principali piazze finanziarie europee con i DAX che è chiuso a 2,04%, ibex a più 2,95%, Parigi a 2,41%, Londra a più 1,68% ed Piazza Affari che chiude con un'ottima performance a 2,77%. Per quanto riguarda le news che sono state rilasciate nella seduta odierna il tasso di disoccupazione della Gran Bretagna si attesta al 3,9% su tre mesi a giugno e secondo la rilevazione dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il dato è stabile rispetto alla passata rilevazione con il mercato che indicava un tasso al 4,2%, mentre la fiducia dei consumatori in Germania risulta indeciso miglioramento nel mese di agosto. L'indice 0 sulle aspettative per il mese in corso si è infatti attestato a 71,5 punti dai contro i 59,3 punti della passata rilevazione. Gli analisti si attendevano un peggioramento con un dato pari a 55,8 punti. Nel mese di luglio invece i prezzi alla produzione degli Stati Uniti hanno mostrato su base mensile una cresce dello 0,6% in miglioramento rispetto allo 0,2% della passata rilevazione. Il consensus di Bloomberg indicava un più 0,3%, mentre invece per quanto riguarda le news che saranno rilasciate domani, mercoledì 12 agosto, abbiamo un calendario macroeconomico con abbastanza importante, insomma abbiamo diverse news già a partire da stanotte all'alba, abbiamo i tassi interessi alla banca centrale della Nuova Zelanda, poi alle ore 5 abbiamo invece la conferenza stampa. Alle ore 8 invece abbiamo una serie di indicazioni in arrivo dalla Gran Bretagna con il PIL del secondo trimestre, la produzione industriale del mese di giugno e quella manifatturiera, il saldo della bilancia commerciale di giugno e poi alle 10.30 l'indice dei direttori di acquisti del settore dei servizi del mese di luglio. Poi abbiamo alle ore 11 la produzione industriale di giugno della zona euro, alle 14.30 invece l'indice dei principali prezzi al consumo di luglio e a seguire alle 16.30 scorte di petrolio greggio, quindi un calendario macroeconomico che prevede un bel po' di notizie macro. Bene, poi andiamo avanti, andiamo ad analizzare gli scenari più importanti, partendo appunto dall'euro dollaro. Posizione di vendita chiusa a break even con le quotazioni che restano ancora al di sotto, 17.75, ovvero al di sotto il lato inferiore della zona di supply. Al momento abbiamo una candela giornaliere in cui è partita prima ribassista, poi c'è stato un recupero al rialzo, quindi delle posizioni al rialzo con le quotazioni che se andiamo a vedere in ottica H4 sono ritornate all'interno di una fase di congestione al test del PO settimanale a 1.17.98.18. Per quanto riguarda invece il cable, il cable registra in questo momento una situazione interessante dove resta ancora all'interno della zona di vendita, eccoci qua, con le quotazioni che si sono portate dopo una fase rialzista poi sono ritornate un'altra volta al ribasso. Quindi questo è un ulteriore setup, un ulteriore rimbalzo, il test di nuovo di questa zona di supply, da qui domani potrebbe essere la giornata giusta per opportunità di vendita. Primo setup ribassista molto probabilmente potrebbe essere questi 230 punti al test di questa zona, ulteriore zona praticamente di rimbalzo. Poi andiamo a vedere un po' anche la situazione su auto SD, abbiamo anche in questo scenario, partiamo dal settimanale in quanto siamo ancora in una zona di supply, vedete quindi al di sotto e domani potrebbe essere interessante per opportunità di vendita. Ha collegato in analisi multi time frame anche al 4 ore, dove abbiamo questa trend line tracciata in maniera perfetta, dove ogni volta che il prezzo va ad prendersi questa zona, praticamente in inizia, è stato ogni volta respinto proprio in maniera molto molto precisa. La rottura di questa trend line, l'uscita da questa zona, diciamo una zona dei massimi, quindi fondamentalmente abbiamo una zona di distribuzione, potrebbe iniziare una movimentazione al ribasso. Mentre invece per quanto riguarda USDCAD continua a movimentarsi SEL, primo target raggiunto nella giornata odierna 1.39 e 1.32.95. Adesso abbiamo spostato lo stop loss a break even e in questo frangente alla situazione molto probabilmente potrebbe andare a chiudere questa zona per poter chiudere questa movimentazione ciclica. New Zealand dollaro, New Zealand dollaro ci sono ottime possibilità di un'operazione di vendita con, eccoci qua, eccola qua, molto bella, molto interessante, a 0.65.60, un breakout qua sotto potrebbe iniziare un bel movimento ribassista, quindi vedete abbiamo 1.23 ottica settimanale, qui ottimo setup di ingresso in vendita. Sul 4 ore la rottura della trend line che si sta portando sotto 0.65.70 a livello annuale, ottimo per movimentazioni SEL. passiamo all'oro, oro vendite oggi a man bassa, praticamente abbiamo preso un bel po' di profitto, abbiamo anche altre operazioni, operazioni in, eccoci qua, vedete, movimento, bel movimento, test sul 423, questo è ottica mensile, test 423, 127.20, sulle estensioni di Fibonacci, ultimo pezzo, quindi da qua potrebbe dare atto a un ulteriore movimento SEL, e ci stiamo avvicinando, eccolo qua, movimento, bellissimo movimento settimanale, questo è quello della giornata, dove, se andiamo a vedere, è andato giù di oltre 950 punti, quindi oltre i 1950, che era la prima zona utile per opportunità di vendita. Primo, prossimo target potrebbe essere il 1904,86, Pibon mensile, la rottura del Pibon mensile potrebbe catapultare verso 1850 i prezzi del petrolio, del gold. Mentre invece, per quanto riguarda il petrolio, la VU sembra maggiormente diretta per opportunità di acquisto, il prezzo superato, questa zona di massimo, quest'ultimo punto di swing, esattamente in area 43 e 45, potrebbe dare atto a un bel movimento al ribasso, dove nel lungo termine potrebbe andare a prendere questa zona di resistenza. Poi, andiamo ad analizzare un'altra situazione interessante per quanto riguarda gli indici, il DAX sembra che abbia terminato i suoi movimenti, la sua corsa, e c'è la possibilità, appunto, in serata, di attendere qualche movimento di ottica intraderi bassista. Eccolo qua, vedete, già sta dando primi segnali SEL. Test, quindi falso movimento al rialzo 12.987,50 livello annuale, con le quotazioni che si stanno portando al di sotto i 61,8, quindi ottima reazione su questo livello di prezzo. Impulso, correzione, estensione, quindi nelle prossime giornate, se mantiene così, molto probabilmente potremmo assistere ad ulteriori movimentazioni al ribasso. Per quanto riguarda il NASDAQ, anche qui abbiamo preso profitto, operazione in cui abbiamo chiuso l'operazione a cento, ad cento, quindi esattamente, ad operazione chiusa, a cento sessanta punti, quindi chiudiamo a cento sessanta punti l'operazione, quindi è praticamente interessante, quindi in questo caso è da qua, praticamente vedete come la movimento ribassista di ieri abbiamo preso profitto, un altro movimento, al di sotto, se si mantiene al di sotto il pivot giornaliero, al di sotto il pivot settimanale, potrebbe domani dare atto a qualche altro movimento interessante SEL. Ed eccolo qua, sotto 10.935,90 è opportuno, c'è la possibilità di altre operazioni di vendita. Invece per quanto riguarda il Dow Jones, Dow Jones piano piano sta iniziando a dare dei primi segnali ribassisti dopo diverse giornate long, all'inizio proprio il mese di agosto è stato long, dal 3 agosto a lunedì scorso, ed eccoci qua, quindi vedete si è fermato in quest'area rosa, aria dettata da una Berisha BCD al 78,6, qua si vede il test, vedete c'è una prima indicazione al ribasso, da questa zona potrebbe, ci spostiamo, eccoci qua, sull'orario, su 15 minuti, anzi, vediamo sull'orario, e ci sono le prime indicazioni ribassiste. Bene, per questa sera è tutto, grazie mille per l'attenzione, ci aggiorniamo a questo punto domani mattina, con la terza diretta live della settimana, alle ore 8.30, buona serata a tutti. Grazie mille per l'attenzione,